ciao a tutti da out of beat e da toni sauffa oggi andiamo a recensire un'applicazione molto molto figa che ci permette di personalizzare a livello estetico la nostra ui di sistema come vi posso già far vedere in questo momento senza installare particolari applicazioni invasive o andare dietro a temi e quant'altro allora andiamo nel play store vedete già il play store quanto è figo ok poi andiamo a vedere digitate swift installer ok che è questo questa applicazione l'andate ad installare e si aprirà in questo modo ok in pratica questa è la la ua è la diciamo la schermata principale dove ci posizioneremo per andare a personalizzare l'intero sistema questo è diciamo il pannello principale e quindi possiamo definire l'accent quindi ad esempio se sceglierete il rosso cliccando qui confermerete i cambiamenti e in pratica tutto invece di questo bluetto diventerà rosso sempre rimanendo nella personalizzazione anche il background possiamo andare a modificare se material o flat ok material o flat qui scegliete voi quello che più vi aggrada il custom background quindi dark io ho selezionato il black come potete vedere dark vedete già lo modifica ocean o nature lo andate a personalizzare come meglio volete ovviamente potete inserire anche se non erro i colori che preferite quindi se avete già un pantone di vostro gradimento lo inserite inserite lì e andate a personalizzarlo anche le icone android p stock assented stock multicolored quick setting style quindi qui andate a modificare la trasparenza guardate sempre in alto qui qui vi fa vedere l'anteprima di quello che andate a fare io lo voglio totalmente nero quindi lo lascio così notification background white o dark io se impostate white vedete dipende dalla combinazione di colori o lascio dark anche qui se volete che vedere oppure no l'ombra lo guardate sempre qui in alto ok meglio senza ombra per me e poi l'orologio se lo volete centrale a sinistra ok qui lo vedete nella home a sinistra o a destra io lo voglio centrale ovviamente una volta fatte le cose cliccate confirm changes e oppure discard changes per annullare il tutto sempre rimanendo qui ci sono tutte le applicazioni inattive attualmente quindi potete andare a selezionare quelle che sono inattive perché ad esempio o non sono ancora supportate dall'applicazione oppure perché è stato fatto un aggiornamento di queste app nel pressore quando e quindi vanno ritemate quindi fate installa questo punto lui si installerà le applicazioni una volta installate per vederle temate nere bisogna riavviare qui riavviamo successivamente in questa schermata vi dice successful quello che è andato bene e i falliti i falliti in questo caso possiamo andare a vedere perché qui in pratica vi dà l'indicazione però dovete aspettare che lo sviluppatore renda disponibili queste app aggiornate sulla sua applicazione qui invece ci dice che abbiamo aggiornato maps dal play store e quindi dobbiamo ritemarlo ok facciamo update e l'applicazione verrà ritemata sempre poi ci comparirà la schermata di riavviare e noi facciamo reboot later perché altrimenti il video andiamo in pappa quindi questa è un'applicazione molto molto semplice vi faccio vedere degli screenshot che ho salvato per farvi vedere cosa è capace di di fare questa applicazione ok quindi andiamo qui ho semplicemente fatto degli screenshot a quello che già abbiamo visto quindi tutta la uai temata molto molto bella cioè potete personalizzarlo come volete veramente fantastico anche qui tutto temato manutenzione dispositivo temata anche il riavvio temato il dialer quindi la composizione dei numeri la rubrica qui il play store ma ve l'ho fatto vedere prima maps guardate maps nero google google search no in questo caso è chrome sempre chrome questo è g plus scusatemi g plus questo è dovrebbe essere o sempre chrome oppure firefox non ricordo bene mi sa che è firefox questo è samsung health temato completamente nero molto molto bello la galleria di samsung a di away quindi ci sono tutta una serie di applicazioni anche in questo caso le note o l'album di samsung l'applicazione temi e qui non è nient'altro di quello che vi ho fatto vedere prima anche il pannello del volume i messaggi tutto temato nero e questo è il play store visto completo quindi con la connessione sd made pro quindi ci sono tutte queste applicazioni che possono essere temate vi ricordo sempre swift installer è l'applicazione vi ricordo se il video vi è piaciuto di mettere un mi piace iscrivervi al canale per essere aggiornati su tutte le nuove tutte le nuove applicazioni non noi chicchette che decideremo di farvi vedere ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao